salve salve eccoci qua approfondimento operativo oggi parliamo del dgu e acronimo del mondo degli appalti che sta per documento di gara unico europeo un documento che ormai da anni si usa negli appalti ma che con l'entrata in vigore del nuovo codice ha necessità di essere aggiornato e quindi con l'occasione oltre a mettervi a disposizione il file word odt e pdf che trovate nel link per scaricarlo e utilizzarlo nelle vostre procedure guardiamo come è fatto per vedere le curiosità sia per chi lo usa diciamo ordinariamente sia per chi non l'ha mai visto e magari lo vuol vedere è un modello di 19 pagina dipende dall'impaginazione ma questo vi faccio vedere velocemente e poi lo andiamo ad analizzare passo per passo come al solito sottolineando i passaggi essenziali però prima di tutto andiamo a vedere la norma che lo regolamenta articolo 91 domande documento di gara unico europeo offerte l'operatore economico che intende partecipare a una procedura per la giudicazione di un appalto utilizza la piattaforma per compilare i seguenti atti b il documento di gara unico europeo ad oggi è un formato editabile esterno le piattaforme devono integrarlo per fare in modo che sia compilabile esclusivamente online ancora non siamo a questo livello siamo ancora in una fase transitoria è probabile che dal primo gennaio salvo proroghe questa funzione ci sia con il documento di gara redatto in forma digitale in conformità al formulario della commissione europea l'operatore economico e le imprese ausiliari dichiarano i requisiti di ordine generale di ordine speciale oltre a una serie di informazioni cioè tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante quindi il digioe avrà una componente comunitaria una componente nazionale e una componente stazione appaltante ricordo che l'articolo 120 225 sempre del nuovo codice disposizioni transitorie di coordinamento dice le disposizioni degli articoli bla 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 acquistano efficacia dal primo gennaio 2024 in via transitoria le disposizioni di quegli articoli 21 29 40 41 58 78 81 eccetera ricordiamo il nostro digioe è nell'articolo 91 che non è citato direttamente ma indirettamente continuano perché sono quelle del vecchio codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative alla presentazione del digioe quindi il codice prevede la presentazione è esclusivamente telematica ma fino al 31 dicembre 2023 vale diciamo la disciplina del decreto 50 2016 che vi ricordo non è integralmente abrogato o meglio è abrogato ma le disposizioni continuano ad applicarsi ancora in fase transitoria allora vediamo come è fatto questo documento intanto parte con delle istruzioni nota bene il digioe è utilizzato per tutte le procedure di appalto di lavori servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché contratti di concessione e partenariato pubblico privato quindi è un documento molto molto ampio è un documento compilato dall'operatore economico quindi è un documento per l'operatore economico la stazione appaltante compila solo alcune parti con le informazioni richieste accompagna l'offerta l'offerta non può essere ovviamente nel digioe perché deve essere in una busta separata e in tutte le varie procedure è utilizzato anche nei casi di negoziata senza bando di gara in questi casi diciamo opportunamente adattato negli altri casi la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante quindi obbligatorio ma fuori da queste procedure pensiamo a un affidamento diretto dove potrebbe essere eccessivo far compilare il digioe allora la stazione appaltante valuta se introdurlo intanto tenete la domanda lì qual è il rapporto fra digioe e fvoe altro acronimo adesso lo spieghiamo per le procedure di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a e b affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro per le quali il codice ha previsto una procedura particolare è possibile fare una dichiarazione sostitutiva quindi non occorre il digioe atteso che anche il digioe consiste in una dichiarazione aventi requisiti in tali fatti specie la stazione appaltante ha la facoltà di scegliere se fare un proprio modello oppure adottare il digioe privilegiando esigenze di standardizzazione uniformità è una sorta di invito a usare il digioe a non fare modelli diciamo settoriali o territoriali ed ecco allora come fatto il digioe informazioni sulla procedura d'appalto e sulla stazione appaltante o lente concedente queste informazioni sono compilate dalla stazione appaltante per le procedure d'appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di gara in gazzetta ufficiale europea le informazioni saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il digioe sia utilizzato il servizio digioe elettronico attraverso il sistema di interoperabilità importa questi dati e che sono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale il numero dell'avviso se non ho pubblicato un avviso in gazzetta ufficiale dell'unione europea la stazione appaltante deve compilare le informazioni in modo tale da permettere l'individuazione univoca della procedura d'appalto perché l'operatore economico non può compilare un digioe firmarlo e poi presentarlo un po' dovunque vuole deve fare dichiarazioni riferite a quella procedura non possono essere dichiarazioni generiche ecco che serve appunto una informazione preliminare le informazioni richieste dalla parte una saranno acquisite automaticamente a condizione che si utilizzi il servizio digioe in formato elettronico identità del committente quindi la stazione appaltante nome codice fiscale di quale appalto si tratta vedete è fatto in forma di nomi o richieste di identificazione quindi titolo breve o descrizione questo di solito è l'oggetto della decisione di contrarre numero di riferimento attribuito al fascicolo dalla stazione appaltante ovviamente chi usa le piattaforme telematiche molto spesso ha un numero che viene generato dalla piattaforma automatica che è diverso dagli altri numeri il cig necessario il cup eventuale il codice progetto eventuale tutte le altre informazioni in tutte le sezioni devono essere inserite dall'operatore economico quindi questa è l'unica parte a cura della stazione appaltante se non sono se non è importata automaticamente dal sistema e infatti abbiamo la parte 2 informazioni sull'operatore economico e sugli altri soggetti quindi il nome del soggetto persona fisica o persona giuridica se ha partita iva sappiamo che agli appalti possono partecipare anche soggetti privi di partita iva se non è applicabile un numero di partita iva un altro numero di identificazione nazionale l'iscrizione al runes o l'iscrizione alla camera di commercio l'indirizzo postale fisico le persone di contatto perché perché una grande impresa ovviamente avrà un legale rappresentante ma che non cura i singoli appalti quindi se c'è necessità di contattare ad esempio l'operatore economico per fare sopralluogo per le richieste di soccorso istruttorio si indica in questa parte dopo di che si va sulle informazioni generali micro impresa oppure un'impresa piccola o media perché sappiamo che le micro imprese le piccole e medie imprese hanno dei vantaggi procedurali quindi sì e no se si è micro impresa o piccola media impresa si ha poi dei vantaggi in termini di abbattimento ad esempio delle garanzie se l'appalto è riservato abbiamo visto il digio e si applica anche agli appalti riservati allora ci sono delle domande particolari quindi se l'operatore è di una cooperativa sociale o di un consorzio e se la risposta è sì si deve compilare anche la parte sottostante se la risposta è no ovviamente non si compila in caso affermativo si compilano le parti sottostanti cioè l'operatore è in un elenco ufficiale di fornitori che ha una certificazione di organismi accreditati allora si indicano le certificazioni anche qui al fine di ottenere degli abbattimenti dove possibile ci sono delle note che definiscono ad esempio cosa si intende per micro imprese o piccole medie imprese andiamo avanti quindi indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta la certificazione che abbiamo autocertificato l'iscrizione comprende tutti i criteri di selezione richiesti perché perché se fra i criteri c'è l'iscrizione all'albo x e io ho l'iscrizione all'albo x e non ci sono altri requisiti non devo andare a dare altri requisiti se invece la iscrizione attestazione non completa i requisiti richiesti dal bando allora si compileranno le informazioni successive vedete è abbastanza complicato è però è strutturato è logico nella sua compilazione alcune parti sono solo in casi particolari se richiesto dal pertinente avviso bando o dai documenti di gara ad esempio ulteriori certificati è in possesso di attestazione sul sistema di qualificazione per i settori speciali se si indicare veniamo invece alla parte delle soa iscritti nell'elenchio in possesso di soa attestazione dell'articolo 100 del codice o del sistema di qualificazione nuovo per servizi e forniture allora possono indicare le informazioni successive l'operatore economico partecipa insieme ad altri questo è fondamentale perché perché se partecipa insieme ad altri e la risposta è sì dovremo andare a verificare anche i requisiti degli altri e gli altri operatori devono presentare normalmente autonomo di giù e quindi specificare il ruolo nel raggruppamento indicare gli operatori che partecipano alla procedura d'appalto il nome del raggruppamento partecipante se pertinente la denominazione dei facenti parte del consorzio i lotti sappiamo che la stazione appaltante deve suddividere in lotti oppure deve motivare la mancata suddivisione in lotti se ci sono lotti si deve indicare a quale lotto si partecipa questo è l'impresa l'operatore economico adesso abbiamo i rappresentanti dell'operatore economico quelli abilitati alla firma non solo quelli che sono tenuti a avere il possesso di particolari requisiti su cui si fa i carichi pendenti e l'antimafia nome completo posizione indirizzo postale telefono email e precisazioni sulla rappresentanza procura speciale lo scopo se c'è una firma congiunta vedete tutte le altre informazioni che possono essere utili per capire la correttezza della procedura informazioni sull'affidamento sulla capacità di altri soggetti quello che viene denominato l'avvalimento se il soggetto si avvale dei requisiti di un altro soggetto ovviamente lo deve indicare e se indica sì deve indicare l'operatore economico o meglio i requisiti che di cui ci si intende avvalere quindi la denominazione dell'operatore economico e i requisiti di avvalimento operativo e finanziario informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento ora qui è una norma particolare del codice degli appalti perché sappiamo il subappalto è stato in gran parte liberalizzato qui c'è indicare soltanto se si intende subappaltare e in caso affermativo cosa si intende subappaltare se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto ciascun subappaltatore a seguito dell'autorizzazione del subappalto dovrà compilare il digiue ma in una fase successiva post aggiudicazione quindi vedete già qui viene dato l'indicazione preliminare non serve adesso servirà in fase di esecuzione parte terza motivi di esclusione i famosi requisiti di carattere generale di carattere speciale previsti dal codice motivi legati a condanne penali quindi ci sono motivi legati a condanne penali i soggetti sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale a uno dei reati previsti dal codice se sì ovviamente indicare come mai sia comunque in possesso dei requisiti o si ritiene comunque di essere in possesso dei requisiti self-cleaning vi accenno a questo concetto in caso affermativo la data della condanna le persone condannate tutti gli elementi di dettaglio in caso di sentenze condanne eccola qui se il soggetto ha effettuato il self-cleaning è l'unico caso in cui ovviamente posso dichiarare sì ho una condanna ostativa ma posso partecipare alla gara altrimenti non parteciperei quindi se si utilizza il self-cleaning ovviamente si risponderà ad altri tipi di informazioni ci sono poi requisiti di carattere contributivo la regolarità contributiva quindi l'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi quindi ha pagato le tasse in caso negativo indicare le imposte tasse e i contributi previdenziali che non si è pagato e ovviamente poi la motivazione per cui non si è pagato non si è pagato perché si è impugnato non si è pagato perché si rientra sotto la soglia eccetera eccetera motivi legati a insolvenza conflitto di interesse e leciti professionali quindi oltre ai requisiti che abbiamo visto prima ci possono essere casi in cui l'operatore economico ha violato norme in materia di sicurezza sulla via lavoro ambientali e sociali previste l'articolo 95 che non consentono alla partecipazione di appalti se la violate ovviamente le motivazioni per il self-cleaning che c'è anche su questi requisiti e come lo ha ottemperato documentazione presente nel fboe è una delle domande che mi è stata fatta adesso in diretta l'operatore economico quando presenta la documentazione attiva un fascicolo fascicolo virtuale dell'operatore economico questo fascicolo virtuale serve perché viene richiamato dalla stazione appaltante quindi il fboe è un documento a parte anzi una procedura a parte l'operatore economico attiva il fascicolo virtuale richiama il fascicolo virtuale nel di giù e in modo tale che la stazione appaltante con il codice che viene dato al fascicolo virtuale acquisisce tutte le informazioni per il controllo ci sono procedure in cui è obbligatorio il fboe procedure in cui non è obbligatorio e qui ovviamente viene indicato per favorire la stazione appaltante nel leggere la documentazione che possa attingere a quel documento l'operatore economico è in liquidazione giudiziale liquidazione coatta concordato preventivo e in caso affermativo perché gli è consentito di partecipare alla gara e poi i gravi illeciti professionali sapete che uno dei temi chi ha seguito il codice 117 il commento articolo per articolo al codice sa diciamo della problematica legata ai gravi illeciti professionali e la volontà del legislatore di consentire la partecipazione a condizioni più certe e qui ci sono le varie domande a cui si deve rispondere per poter nonostante gravi illeciti professionali partecipare alla procedura in particolare attraverso il cosiddetto appunto self cleaning che è una delle modalità anche in questo caso verificabile tramite il fboe conflitto di interessi conflitto di interessi non lo deve dichiarare soltanto il rup o i membri della commissione ma anche l'operatore economico verso il rup e i membri della commissione quindi dichiara che non è in conflitto di interessi e se è in conflitto di interessi come ha rimosso le condizioni di conflitto l'operatore economico ha fornito consulenza alla stazione appaltanti o partecipata alla procedura di aggiudicazione perché in questo caso ovviamente non può partecipare così come non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni non ha accultato informazioni non è iscritto nel casellario anac per aver presentato false dichiarazioni ai fini del rilascio della attestazione non aver reso false comunicazioni sociali che è un altro elemento ostativo sezione d motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione dello stato membro della stazione appaltante o dell'ente concedente il documento che abbiamo visto finora è internazionale è comunitario adesso qui il digiue consente all'italia di inserire appunto motivi propri di carattere nazionale quindi trovate ulteriori elementi informativi previsti proprio dal vigente codice e qui trovate tutti i richiami con la solita opzione sin no sin no vedete il pantuflage o revolving doors anche questo previsto dalla normativa sul pubblico impiego parte quarta la parte quarta riguarda i cosiddetti criteri di selezione cioè i criteri in base al quale si in base ai quali si decide chi vince la gara una procedura in offerta economicamente più vantaggiosa ovviamente ha anche i criteri si parte con una domanda generale soddisfa i criteri di selezione qui ovviamente sì se non li soddisfa è escluso automaticamente idoneità articolo 100 iscrizione all'albo professionale e commerciale tenuto dallo stato membro di regola l'iscrizione alla camera di commercio se italiani per appalti di servizi forniture e lavori se è richiesto un'autorizzazione particolare ulteriore all'iscrizione in camera di commercio anche qui con il sì e con il no e poi la capacità economico finanziaria data dal fatturato globale nel triennio precedente oppure per i appalti di importo superiore ai 20 milioni di euro è previsto una particolare requisito per quanto riguarda gli altri requisiti economici o finanziari ovviamente il digioe non li può sapere perché sono stabiliti nel bando di gara e quindi si chiede soltanto di indicarle altra sezione la capacità tecnico professionale quindi fondamentalmente se ha eseguito lavori pari a quelli specificati nell'appalto oppure servizi e forniture pari a quelli specificati nell'appalto vedete con la descrizione normalmente si richiede di aver svolto analoghi servizi il numero di tre per enti di dimensioni analoghe oppure di avere dei professionisti pagati per svolgere la prestazione quindi i requisiti tecnici e professionali altra sezione sezione dei sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale sapete che sul tema delle norme ambientali c'è per fortuna enorme sensibilità da parte del codice quindi norme di garanzia di qualità iso fondamentalmente certificati del sistema di gestione ambientale non è detto che siano previsti ma dove previsti devono essere dichiarati la parte quinta riguarda la l'operazione le informazioni che l'operatore economico deve fornire con riferimento al specifici requisiti caso particolare di soddisfare i criteri e le regole obiettivi non discriminatori per limitare il numero dei candidati qualora la stazione appaltante preveda che in presenza di un elevato numero di candidati si possa ridurre devono essere possono essere richiesti e sono indicati in questa particolare sezione infine la dichiarazione finale che è una sorta di dichiarazione onnicomprensiva che stabilisce in cui viene un richiamo alla falsità in caso di false dichiarazioni e alla richiesta di sottoscrizione da parte dei soggetti tenuti data luogo e sottoscrizione da parte dei soggetti interessati quindi come avete visto un documento apparentemente complesso ma in realtà seguendo tutte le parti in alcuni casi sono domande sì e no in alcuni casi sono elementi informativi consente all'operatore economico in maniera abbastanza agevole perché poi il modello è uniforme a livello comunitario quindi compilato una volta lo si riutilizza quasi completamente per le altre procedure di gara per questo è stato introdotto l'operatore economico la prima volta può durare più difficoltà a compilarlo dopodiché cambia l'intestazione cambia alcune informazioni ma soprattutto può importarlo con il sistema automatizzato dalla precedente compilazione quindi attraverso le piattaforme elettroniche sarà possibile reimportare il digio e che diventerà diciamo uno strumento più quotidiano nell'azione amministrativa per quanto riguarda la stazione appaltante pur essendo un pochino complicato nella sua lettura comunque consente di avere la maggior parte delle informazioni non tutte perché perché alcuni dei requisiti sono contenuti magari in norme della stessa amministrazione in bandi disciplinari ad esempio relativi a particolari requisiti che non sono nel digio e allora è ammesso la produzione di un allegato al digio e non è possibile modificare il digio e ma si può produrre un allegato a contenente le informazioni al digiuntive al digio e che va compilato al pari del digio e questo è quello che fanno la maggior parte dell'amministrazione quindi sotto i 40.000 si può utilizzare un modello autocertificato sostitutivo del digio e sopra i 40.000 si può utilizzare il digio e laddove non è obbligatorio si deve utilizzare il digio e dove è obbligatorio e se necessario si può allegare un modello integrativo questo il quadro che vi ho voluto rappresentare per cercare di avere un po' un'idea più chiara e anche pratica di come funzionano le procedure di appalto vi ringrazio vi saluto avanti tutte ci vediamo alla prossima